Musica Possiamo parlare di paese libero quando serve una manifestazione del genere per affermare la carta costituzionale? E' un paese a rischio sicuramente, è un paese in cui il Presidente del Consiglio minaccia la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, i giudici, i giornalisti, la scuola pubblica, i contratti, è un paese a rischio, un paese in cui uno dice qui comando io e a colpi di maggioranza faccio quello che voglio, è sicuramente un paese a rischio e quindi è giusto incominciare a suonare l'allarme e mettere assieme senza settarismi tutti quelli che ancora credono nei valori essenziali della Costituzione. C'è ancora margine o per troppo tempo si è lasciato correre? No, no, c'è ancora margine, guai al pessimismo, perché il pessimismo è quello che vuole lui, vuole dirti non c'è niente da fare e vattene a casa e poi fregarti, questo è il momento di uscire da casa, non di stare a casa a lamentarsi. No, no, c'è ancora margine, guai al prossimo!